oggi vi voglio raccontare una storia è la storia di una persona che mi è molto vicina e mi è molto cara questi accadimenti risalgono a pochi mesi fa dopo delle normalissime analisi di routine generate anche da alcuni malesseri questa persona è stata chiamata direttamente dal suo medico di base che era stato allertato immediatamente dal laboratorio di analisi perché l'emoglobina di questa persona era al di sotto dei cinque punti il suo medico di base l'ha mandata direttamente al pronto soccorso con l'indicazione di dover ricevere una trasfusione arrivata al pronto soccorso questa persona è stata immediatamente visitata sono state immediatamente ripetute le analisi che hanno confermato ciò che era già stato rilevato dal laboratorio la mattina stessa e il medico di pronto soccorso ha proposto a questa persona appunto una trasfusione questa persona ha chiesto se ci fossero magari delle cure farmacologiche che potessero andare a compensare questo forte scompenso di emoglobina e il medico di pronto soccorso ha risposto a questa persona che alternative non ce n'erano perché forse da un po di tempo non si sa neanche quanto forse da diversi mesi questa persona era già a rischio cardiaco rischio cardiaco significa semplicemente danni permanenti al cuore ovviamente questa persona ha firmato per ricevere questo trattamento sanitario poi è stata diagnosticata la patologia che aveva causato questo genere di anemia molto pesante molto forte e che ha messo a rischio la vita di questa persona appunto mettendola in serio rischio cardiaco questo problema è stato risolto chirurgicamente e quindi questa persona si è totalmente ripresa da questo da questo scompenso da questa situazione molto molto complessa ovviamente oltre a una trasfusione è stato fatto del ferro in endovena ed è stata poi prescritta una terapia che servisse a riportare i livelli di emoglobina a quella che è la norma generale livelli che sono tornati tali dopo diversi mesi quindi in quel momento la trasfusione di sangue è stata in sostanza la salvezza per questa persona che se non avesse ricevuto questo trattamento si sarebbe ritrovata a continuare ad avere questo serio rischio cardiaco con tutto quello che poi può comportare tutta questa storia che vi sto raccontando semplicemente per dire che il sangue è vita e anche per dire chi è nella condizione di donare sangue quindi senza patologie gravi o senza patologie che comunque vadano ad impedire la donazione se si è all'interno dei limiti di peso corporeo minimi richiesti fatelo perché perché donare il sangue non è solo donare sangue ma è donare la vita una buona giornata